Si conclude il ciclo di conferenze diabete ieri, oggi, domani, organizzato dall'Associazione Diabetici di Pesaro. Venerdì 2 dicembre, alle ore 18, l'ottavo e conclusivo incontro a Villa Borromeo prevede la presenza di Mara Mussoni, che presenterà il suo ultimo libro, Coaching Oncologico, Prendi la strada per la tua guarigione. Con lei anche Silvia Gambini e la sua aromaterapia per affrontare l'inverno, il medico internista Silvia Manfreni di Asur Area Vasta 2 e il diabetologo Luigi Maggiulli dell'azienda ospedaliere Marche Nord con diabete e stile di vita. A seguire la cena di auguri natalizi a chiusura di due mesi e mezzo di proficui e partecipati approfondimenti sulla patologia.